Massimo, decisamente questo incrocio inizio campionato con Milano non porta fortuna, ci hai ricordato un po' la partita dell'anno scorso? Sì, anche se qua le condizioni sono un po' diverse perché noi chiaramente siamo un po' in un assetto di emergenza e siamo andati sul 2-0, tra l'altro se non sbaglio 12-4, qualcosa del genere nel terzo ci stava dando grande metodo a tutto l'impegno che ci avevamo messo. Quindi mi spiace molto per i ragazzi perché hanno veramente messo tutto quello che avevano, hanno giocato con grande cuore e questo sicuramente è un loro metodo, per cui l'importante adesso è non per l'autostima, riflettere sulle cose che potevano fare meglio e prepararci per la prossima gara. È difficile giocare ovviamente in queste condizioni, la squadra come ha reagito prima all'infortunio e adesso alla nuova assetto? All'infortunio ha reagito tutto sommato abbastanza bene, nel senso che chiaramente la settimana subito dopo il fatto c'è stato un po' di sgomento, un po' di tristezza generale, però diciamo che da mercoledì eravamo subito a palle in elemento, hanno spinto, tant'è che a Perugia secondo me abbiamo fatto una prestazione più che dignitosa. Ti ripeto, oggi abbiamo anche dato i presupposti per portare a casa la vittoria e mi spiace molto perché per certi versi ce lo meritavamo, però a Milano è stata brava e bisogna dare anche merito a loro. Si può ripartire comunque dalle cose buone, ottime alcune viste oggi? Sì, sicuramente partiamo da delle buone cose che abbiamo fatto oggi, soprattutto al servizio, in alcuni momenti in muro difesa, dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni, soprattutto in attacco perché chiaramente a volte la situazione lo impone. Grazie.